Un buongiorno amici di Ante.it e buongiorno a due carissimi amici Antonio Magnanimi e Umberto Pulcini. Buongiorno. Sono da trovarci anche perché sono due ragazzi che stanno creando di dare un qualcosa di più al nostro territorio. Parliamo di Portodascoli, avendo attualmente in gestione il centro sportivo Leonora, un centro in evoluzione ma che giustamente stanno pian piano cercando di dare quel qualcosa che a Portodascoli maga. Prego Antonio, poi sentiamo Umberto. Sì, è un'idea che ci è venuta circa un tre anni fa, abbiamo visto appunto questo appezzamento di terreno che si trovava appunto a Portodascoli nella zona della scuola Megliacappella esattamente tra il parco Leonora, uno dei parchi sicuramente più conosciuti, più grelli e più curati di San Benedetto e la scuola Megliacappella. C'era questo terreno ovviamente di proprietà comunale che è rimasto così da tanti anni perciò incolto e lì abbiamo avuto l'idea perciò di completare e di riqualificare questo appezzamento che manca appunto in questa zona residenziale. Esatto. E allora abbiamo cercato di fare un progetto e proporlo poi al comune per la riqualificazione di quest'area e abbiamo pensato perciò a cosa? A realizzarci un centro sportivo che comunque manca da tanti anni perché io sono di Portodascoli e molte volte per giocare a calcetto mi dovevo recare o a San Benedetto o a Grotta Mare dove c'erano già delle strutture e a Portodascoli che comunque è un centro di snodo e comunque che riunisce diciamo più comuni tra cui anche il vicino Abruzzo o anche la Vallata. Era carente insomma questa zona di un centro sportivo e abbiamo perciò pensato che potesse essere insomma la migliore riqualificazione che si potesse fare su quest'area e abbiamo pensato perciò a presentare un progetto caratterizzato ovviamente da due campi di calcio a 5 e un campo di calcio a 3 e anche praticamente anche delle aree fitness all'aperto che potessero essere sfruttate ovviamente nella stagione estiva in modo che oltre ovviamente all'aspetto calcistico potremmo insomma anche cercare di sviluppare anche altre attività di fitness e di corpo libero. Sentiamo anche Umberto anche perché dopo tre anni state già pensando di fare qualcosa in più più che altro guardando un po' lontano per quello che potrebbe essere questo centro anche per dargli una valenza migliore durante il periodo estivo. Sicuramente, innanzitutto questo progetto come ha detto Antonio è partito tre anni fa un progetto lungo, articolato, complesso a cui noi ringraziamo profondamente la precedente amministrazione comunale che ci ha creduto e che poi dopo grazie ai tecnici comunali hanno creato diciamo un bando che ci ha messo al pari degli altri giustamente per partecipare e far partecipare tutte le attività, le imprese che volevano diciamo sfruttare questa opportunità. Chiaramente noi partiamo con il mondo del calcetto, diciamo l'investimento principale è legato a questo settore. Ci sono chiare delle novità in essere grazie ad alcuni marchi, alcune società sportive prestigiose del nostro territorio che ci hanno contattato per avviare dei centri estivi, un centro estivo diciamo coordinato con altre strutture. Quindi polivalente praticamente? Sì, polivalente non legato diciamo prevalentemente al calcio, per esempio l'area del centro sportivo presenta tre campi di calcetto, però ha quasi 2000 metri quadri di verde attualmente a Prato Inglese però lo abbiamo sfruttato già subito dopo l'inaugurazione per fare delle attività a corpo libero nei pomeriggi quindi super jump, spinning, abbiamo ospitato anche delle mamme in attesa quindi con delle ostetriche, quindi dei corsi proprio pre-parto e post-parto abbiamo ospitato delle signore sulla cinquantina per fare delle attività proprio a corpo libero Diciamo che è una struttura che può essere sfruttata a 360 gradi 360 gradi e la chicca che noi abbiamo inserito dentro a questo centro sportivo è che viene a giocare la partita e te la puoi rivedere a casa Infatti questo di cui si parla tanto non solo a San Benedetto diciamo ma là eventualmente se vuoi ti danno anche la cassetta cioè sai le sfide quelle classiche oppure amichevoli Sì sì è una cosa che noi gratuitamente diamo ai ragazzi che vengono a giocare al nostro centro basta che mettono una loro posta elettronica parte l'avvio della ripresa e in automatico scattano i 60 minuti di ripresa Quindi non c'è neanche un supplemento Non c'è neanche un supplemento, lo diamo attualmente, lo diamo al costo del campo Che poi mi pare che i costi sono come gli altri campi, non è che fate delle cose extra No, 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 pur dando un livello molto alto perché comunque sia i campi nuovi, di ultima generazione sia anche un ambiente moderno oltre che degli spogliatoi in classe A, antisismici, legno, coibentati energeticamente Diciamo ultima generazione Ultimissima generazione, il prezzo è intorno ai 50 euro Quindi vabbè ragazzi, mi fa piacere, mi ha fatto piacere avervi ospiti anche perché ne sentivo parlare, era giusto una volta che ci siamo conosciuti occasionalmente farvi un po' sapere quelli che erano gli obiettivi visto che è tre anni, però state pensando già al futuro siete giovani, io quindi vi faccio di bocca al lupo con la speranza di rivederci, insomma è prima dell'estate per annunciare qualcosa di più importante che state già ideando e prospettando Grazie Umberto, grazie Antonio, alla prossima